Una famiglia toscana su 10 dichiara di far fatica ad arrivare a fine mese facendo quadrare i bilanci mentre circa la metà ritiene di aver peggiorato il proprio stato economico nel 2022. L'8% infine vive con meno di 600 euro al mese. È quanto emerge dal sesso rapporto su povertà ed inclusione sociale in Toscana redatto in collaborazione da Osservatorio Sociale Regionale Anci Toscana, IRPET, Centro Regionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza, Università di Siena e Caritas Toscana. Purtroppo non vediamo nemmeno nel breve periodo una possibilità di far migliorare sensibilmente la situazione perché anche i costi delle bollette, i costi dell'energia possono migliorare nel breve periodo relativamente perché sappiamo bene che sono flussi che per risalire hanno bisogno di tempo. La fotografia statistica è dedicata in gran parte al 2021 ma contiene anche un'indagine campionaria realizzata da IRPET a ottobre 2022 su un campione di 3.017 famiglie. Dobbiamo essere consapevoli che l'inflazione molto alta, ormai sopra il 10% che si è attivata, anche se possiamo prevedere un raffreddamento nei prossimi mesi, contribuisce alla diminuzione di un potere d'acquisto che rende sempre più condizioni di disagio. Il governatore ricorda infine l'impegno regionale già messo in campo. Noi abbiamo già impegnato 16 milioni di euro in una delibera che abbiamo approvato 15 giorni fa perché l'assessorato alle politiche sociali possa sviluppare e scegliere quelli che sono interventi concreti di sostegno economico alle famiglie in difficoltà. Per la regione toscana è priorità politica intervenire per sottrarre a condizioni di povertà persone, cittadini e famiglie e di intervenire soprattutto nel momento in cui ancora ci sono le possibilità per mantenere un equilibrio che non faccia cadere in condizioni di povertà. Interventi come gli asili nido gratis sotto i 35 mila euro che partiranno dal prossimo mese d'ottobre sono misure concrete che la regione anche impegnando in questo caso 233 milioni in sei anni mette in campo per pronteggiare questo fenomeno.